Amici 17. Emma Muscat è stata eliminata da Amici 17. In finale Irama, Lauren, Carmen e Inar. Chi è stato eliminato alla semifinale di Amici 17? Emma Muscat? La cantante di Malta non è riuscita a guadagnarsi la finale nel talent show di Maria De Filippi. Per ben tre volte la fidanzata di Biondo, ha provato a ottenere la vita a maglia ma il pubblico ha sempre preferito altri. Prima Lauren, poi Carmen e infine Inar. Emma ha salutato tutti con le lacrime agli occhi, dispiaciuta ma allo stesso tempo contenta per il percorso intrapreso in Italia. I quattro finalisti di Amici 17 sono. Irama, Lauren, Carmen e Inar. Il primo ad ottenere la maglia nera è stato Irama, che ha battuto in una sfida diretta a Carmen. Successivamente si sono sfidate a Emma e Lauren con la vittoria di quest'ultima, e poi Emma contro Carmen. Lo scontro finale è avvenuto tra Emma e Inar con il trionfo del giovane brasiliano. . 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